quali sono quei alberi del giardino, diversi alberi del giardino e di ogni cosa si può godere in varie forme, con vari frutti, soltanto rimane l'albero della conoscenza è fuori da questa lista c'è la volontà di ricevere che lui per la ricezione è vietato di essere toccato anche l'intenzione per la d'azione è vietato anche di toccarlo perché questo lo riceve dal superiore per scoprire tutta la luce e allora con questo tu rompi il desiderio il desiderio già inizia ad essere tutto legato con la volontà di ricevere per se stessi il serpente entra nel tuo amperio e l'achar senza lo schermo è definito il serpente entra dentro il desiderio e si connette dentro questo desiderio e diventa un cli tutto per la ricezione di se stessi bello questo, da qui in poi possiamo parlare sulle correzioni il serpente fa un lavoro molto buono e proprio conviene a noi di prendere un esempio di lui come lui, quanto lui continuamente è lui chi non ci permette, si respinge, non ti lascia a noi riposo, continuamente è una forza, natura molto potente, molto grande che senza di essere, come noi potremo veramente come saremmo stati capaci di avanzare, evolvere verso qualsiasi cosa, immaginate che noi esistiamo adesso come gli animali, nessuno sa per quale ragione si è operato al 100% nessuna critica, analisi se stessi e vedere se stessi da un lato quale vita avremmo avuto, quale vita miserabile avremmo avuto in questa forma soltanto per esistere fino a che io muoio così tutti gli esseri umani del mondo esistono così cosa si chiara, allora si scopre in noi Niv, l'istinto malefico, questo serpente si scopre in noi si scopre, allora grazie a lui noi iniziamo a evolvere, a crescere e lui è il nostro amico bene